Due sedute consigliari andate a vuoto con conseguente sperpero di denaro pubblico. Consiglio Comunale di Favara irresponsabile e inconcludente e amministrazione assente e improduttiva. Questo, in estrema sintesi, il bilancio di due giorni di attività consigliare nella città dell'Agnello Pasquale. Per venerdì sera era stata convocata una seduta consigliare per affrontare otto punti all'ordine del giorno, tra cui interrogazioni e interpellanze, riconoscimenti di debiti fuori bilancio e modifica e approvazione del nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria. Seduta, quella di venerdì caduta per mancanza di numero legale. Aggiornata per sabato, la riunione viene bloccata e rinviata a martedì perché in aula non era presente nessuno dell'amministrazione comunale e neanche i dirigenti che dovevano relazionare al Consiglio. Ed ecco che sono stati spesi inutilmente i soldi dei contribuenti favaresi, in un periodo nel quale si aumentano le tasse e si danno servizi limitati e nel momento in cui il Comune rischia il dissesto finanziario. Dallo scorso 30 giugno si sono ridotti al Comune i rientri e i buoni pasto ai dipendenti, questo per avere un risparmio nelle casse comunali, comportando ovviamente dei disagi alla popolazione che di pomeriggio può recarsi al municipio una sola volta a settimana, ovvero il mercoledì, a differenza delle precedenti disposizioni che prevedevano anche l'apertura il lunedì pomeriggio. Era stata data anche una disposizione per quanto riguarda le riunioni di commissioni e sedute consigliari da svolgere il mercoledì se convocate di pomeriggio. Disposizione che non è stata rispettata almeno sulla convocazione della riunione consigliare. Infatti la prima era per venerdì sera e la seconda per sabato sera. Anche l'aggiornamento per martedì ha disatteso le direttive. Proprio sull'improduttività del Consiglio Comunale registriamo una nota del consigliere Antonio Palumbo. Prima andiamo a casa e meglio sarà per la città, dice il consigliere della Rifondazione Comunista. Non abbiamo prodotto un bel niente per la comunità, abbiamo sperperato denaro pubblico. A nulla, dice Palumbo, sono valse nelle due sedute le mie lamentele e il mio tentativo di far aspettare i colleghi. Il primo giorno per vagliare la possibilità di raggiungere il numero legale e il secondo al fine di contattare qualche membro dell'amministrazione affinché venisse in extremis in aula e darci la possibilità di proseguire la seduta. Se la maggioranza dei consiglieri comunali, l'amministrazione e il sindaco non cambiano registro, ribadisco, conclude che prima andiamo a casa e meglio sarà per la città.